560 mascherine chirurgiche, 50 tute sterili di protezione provenienti dalla provincia cinese di Sichuan e ancora 50 mascherine professionali e 10 flaconi di disinfettante spray. Sono questi prodotti sanitari che ieri mattina vicino alla tenda della Croce Rossa allestita all'esterno del carcere sono stati consegnati dal sindaco Sboarina, la direttrice della casa circondariale di Montorio. Oltre al materiale professionale destinato agli agenti della polizia penitenziaria il comune ha consegnato anche 500 mascherine di cotone lavabili per le persone detenute.